Buon pomeriggio, oggi ci rivolgiamo ai ragazzi, ai ragazzi che stanno affrontando le loro decisioni, le loro voglia di ritornare a scuola e sicuramente in questo momento stanno pensando anche al loro prossimo istituto da intraprendere dopo la scuola media inferiore e noi ci permettiamo di suggerire tra le tante scelte che possono fare quello del CAT, ex geometra, diploma finito, diploma che ci dà la possibilità di già 20 anni a 21 anni di entrare nel mondo del lavoro e un lavoro bellissimo speciale che è quello del geometra che ha tante possibilità e tante sfaccettature della sua professione che sono veramente tante. Queste immagini che scosono vedete appunto quello che il geometra fa tutti i giorni nei cantieri, in studio, con sicurezza, con tante professionalità che la società chiede oggi. Quindi non pensateci molto, scegliete il vostro istituto CAT della nostra provincia che ne ha ben quattro e quindi Avellino, Ariano, Vallata, Lioni, sono tutti istituti bellissimi dove troverete professori straordinari che vi daranno la possibilità di entrare in un mondo straordinario che è quello dei geometri. Finito questo percorso abbiamo la possibilità, ci stiamo lavorando, di andare verso una laurea specializzata e professionalizzante e abilitante che ci darà la possibilità veramente di essere laureati e di iniziare un lavoro bellissimo nuovo in tempi brevi, già a 21 anni. Vi abbraccio tutti ragazzi, vi aspettiamo ai nostri CAT. Grazie a tutti.